Voleva imparare a confezionare delle bombe. Era attivo in tre gruppi WhatsApp privati legati all'ISIS, in cui si inneggia la discesa in campo contro gli infedeli. Stiamo parlando di un giovane tunistino di 24 anni, muratore, regolarmente residente da 10 anni in provincia di Parma, con permesso di soggiorno, dove viveva in solitudine in un casolare. Il giovane non frequentava moschee o luoghi legati all'Islam, ma era molto attivo online, anche in 71 canali stranieri di Telegram. E' stato arrestato dalla procura di Bologna per terrorismo e autoaddestramento, un reato che colpisce i possibili terroristi islamici pronti a radicalizzarsi. Il 24enne nel tempo aveva anche modificato l'immagine del proprio profilo WhatsApp con una foto raffigurante tre Kalashnikov. Durante la perquisizione in casa sono stati sequestrati un cellulare e diversi documenti. Telefonino e carte dimostrerebbero, secondo gli inquirenti, la crescente radicalizzazione dell'uomo, con l'esaltazione della jihad e del martiri in omaggio ad Allah. Il ragazzo era sotto controllo e intercettato da circa un anno.